Ciao a tutti, oggi vogliamo presentarvi la nostra nuova fustella della stella di Natale una fustella artigianale in formata 4, quindi idonea per la Big Shot Plus come vedete il disegno che va a fare poi è questo è strutturata e fatta come la nostra rosa in 4 va arrotolata partendo dal petalo più piccolo ad arrivare al grande il vantaggio di questa fustella è avere per ogni petalo un taglio che con un po' di colla vado a sovrapporre mi dà quindi quella morbidezza e quella forma del petalo giusta per creare la stella di Natale se volete vederla la trovate in Fiera Manualmente Torino e a Roma a Davillunte ciao a tutti e buona giornata